Ben trovati dalla redazione, queste le immagini che ci arrivano dalla webcam della RAS e che ci mostra la situazione a Plan de Corones a quota 2271 metri alle 11.31 di questa mattina. Le previsioni fino alle 24 di questa sera. Situazione generale. La depressione sull'Italia settentrionale e le correnti in quota nord-orientali avvicinano masse d'aria umida alle Alpi. La nuvolosità tenderà quindi ad aumentare nel corso del pomeriggio. Ad iniziare dalle Dolomiti si registreranno le prime precipitazioni. Nelle vallate a settentrione il vento spirerà tratti con forte intensità. Le temperature massime saranno comprese tra 10 e 18 gradi. Le previsioni per domani, sabato 23 maggio. In cielo prevarranno ancora le nubi con dei rovesci nel corso del pomeriggio. Da nord e nelle valli spirerà ancora vento che sarà di forte intensità alle quote più alte. Le temperature previste per la giornata di domani. Bolzano minima 12, massima 20. Merano minima 13, massima 20. E Bressanone minima 7, massima 17 gradi. Le previsioni per domenica. Il cielo sarà ancora variabilmente nuvoloso ma generalmente non si registreranno precipitazioni. Le temperature saranno in aumento. Le previsioni per i prossimi giorni. Lunedì, giornata di Pentecoste, si prevede tempo abbastanza soleggiato con solo sporadiche nubi che a tratti potranno schermare il sole. Per la giornata di martedì si prevede un ritorno all'instabilità con possibilità di rovesci e temporali in aumento nel corso della giornata. Per mercoledì si prevede cielo variabile con alternanza tra sole e nubi. Grazie. 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 Grazie.